Ai nastri di partenza la ventesima edizione del premio regionale Olivarum annata 2023-2024 per i migliori oli extravergine di oliva prodotti sul territorio lucano. Fino al 27 gennaio 2024 sarà possibile poter inviare i campioni di olio Evo da sottoporre alla giuria del panel test di Metapontum Agrobios che effettuerà la selezione sulla base dell'analisi sensoriale e della valutazione organolettica degli oli in competizione. Il concorso nasce per valorizzare i migliori oli regionali e punta alla crescita continua della qualità delle produzioni sul mercato nazionale e internazionale favorendone la competitività e il miglioramento a vantaggio dei consumatori che scelgono gli oli di eccellenza lucani. Il concorso è emanato dalla direzione generale per le politiche agricole alimentari e forestali della regione basilicata con la collaborazione dell'agenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura ed è aperto agli olivicoltori e o produttori di olio singoli o associati che operano sul territorio della regione basilicata con oli prodotti nella campagna agraria 2023-2024. I vincitori avranno la priorità per la partecipazione al Salone Internazionale dell'Agro Alimentare di Qualità nello stand collettivo che la regione basilicata allestirà a Verona dal 14 al 17 aprile 2024, oltre ad esporre la propria produzione al Cultural Festival della Cultura Alimentare Italiana in programma a Matera dal 16 al 18 marzo 2024. Nell'ambito del concorso ulteriori menzioni speciali verranno assegnate ai migliori oli appartenenti alle specifiche categorie di grande produttore, mono varietale, biologico, dop vulture, IGP olio lucano, prodotto di montagna.